Contrabbandavano alcol e tabacchi dal porto di Salerno grazie all'accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane, truccando i documenti di esportazione delle merci in transito allo scalo. Un modus operandi consolidato, portato avanti dal 2018 al 2020, è scoperto da procure e direzione distrettuale antimafia. Sette le persone arrestate, tra loro due ausiliari doganisti e uno spedizioniere del porto di Salerno, un finanziere in servizio al nucleo PEF del capoluogo e un agente in servizio alla Polizia Marittime di Frontiera. Uno degli indagati è già coinvolto nell'inchiesta sul maxisequestro di pasticche di droga Captagon avvenuto al porto. Le accuse a vario titolo, associazione per delinquere trasnazionale, mancato pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, falsità materiale e accesso abusivo al sistema informatico. La Guardia di Finanza ha eseguito tre misure cautelari in carcere, quattro ai domiciliari nelle province di Salerno, Caserta e Campobasso, scoperchiato un gruppo criminale trasnazionale che aggirava i controlli doganali attestando false esportazioni di prodotti ad alta fiscalità verso l'estero. Duplice il vantaggio, la disponibilità di prodotti messi sul mercato a prezzi concorrenziali rispetto a quelli soggetti alle imposte e la contestuale evasione sui redditi, tra i prodotti finiti nel mirino della Procura, alcol puro, bevande alcoliche e circa 18 tonnellate di tabacco per narghilè.